Ciao a tutti ragazzi, oggi un altro velocissimo unboxing di questo terminale che è il Nokia Lumia 925 che mi è stato dato da un mio carissimo amico Sime che appunto ho preso per poter fare paragoni tra telefoni più o meno della stessa taglia di diversi sistemi operativi quindi Windows Phone, Blackberry e Android e forse anche iOS Bene, facciamo questo unboxing rapidissimo abbiamo il nostro Nokia Lumia dalle dimensioni perfette secondo me come telefono molto sottile, materiali ottimi, alluminio sul fianco, plastico sul retro e un bel display sul davanti poi le caratteristiche le vediamo bene in una recensione apposta qua abbiamo il nostro PIM per tirare fuori la SIM dal telefono manualetti di istruzioni e poi qua come è solita Nokia abbiamo la nostra scatola con il caricatore il cavetto USB per collegare il caricatore al telefono e cuffiette che in questo caso sono bianche perché quelle nere erano abbastanza usurate quindi mi ha dato quelle di un altro telefono che aveva sempre Nokia Lumia bianche questo è tutto, ciò che troviamo dentro alla scatola solite cose che si trovano con i smartphone di Nokia e niente, adesso col prossimo video farò una video recensione solo del Nokia Lumia 925 per poi fare una recensione invece dei sistemi operativi spero di aver detto tutto, ciao a tutti ragazzi e alla prossima da Daniele